Una sola volta basta. Un solo schiaffo basta. Un solo libido basta. Basta con le scuse e chiedi aiuto. Non sei sola. È solo l'inizio, ma tu puoi mettere la parola fine. Se c'è violenza non è mai amore. Denuncia sempre. Iolotto è l'iniziativa promossa dal Comune di Napoli e finalizzata alla promozione dei centri antiviolenza, nata con l'intento di sensibilizzare le donne vittime di maltrattamenti a denunciare i loro oppressori. I centri di ascolto possono darti un aiuto concreto, anche solo con un consiglio. Fatti ascoltare. Chiama il 1522 o scrivici in chat. Grazie a tutti.